Arrivano ben 3 milioni di euro dal PNRR a Castiglion Fiorentino, un progetto era già pronto, quello dei Macelli, quindi si va, è subito cantierabile. Due progetti sostanzialmente erano lì ad aspettare delle risorse che sono arrivate attraverso questo bando in cui il Comune di Castiglion Fiorentino si è aggiudicato complessivamente 3 milioni. Questo intervento quindi permetterà la completa riqualificazione dell'ex mattatoio comunale e guarda caso proprio attaccato al mattatoio comunale c'è ancora una parte che necessitava di interventi di proprietà dell'ente Serrestori che consentirà un aumento dei posti letto della nostra casa di riposo. Cambierà il volto dell'RSA su un progetto che avevamo iniziato già nel 2017 e eravamo andati avanti a macroare, a questo punto rimane l'ultima ala dell'edificio che andremo a completare e soprattutto anche a introdurre nuovi servizi. Il progetto è quello dei macelli che riguarda il Comune su cui avevamo creduto da tanto, abbiamo impegnato risorse e tempo ormai da anni attraverso una progettazione dettagliata che ci ha consentito di ottenere 1 milione e 700 mila euro per il completamento del recupero delle immobili ex macelli. Anche grazie al recupero degli ulteriori spazi che riguardano i spazi adiacenti che verranno utilizzati come sali polifunzionali, sali di attrattenimento sia per eventi culturali che turistici, riteniamo di essere maggiormente attrattivi per anche le attività economiche del centro storico.